ciao a tutti buon lunedì a tutti ed eccoci qua con sempre le ultime due sfide del torneo degli iscritti ad arcadio contro ivette un miliardario in un 20 per e eugenio semelaro contro barbara cremona sempre un miliardario e un 20 per non avete ancora scritto su sofia decido io e facciamo che decido io quindi la prima sfida ad arcadio contro ivette ad arcadio il miliardario è serie 89 numero 41 spero che abbia passato bene le feste vediamo un po i numeri vincenti di ada 23 45 30 46 e 40 primo numero 32 che non c'è c'è il 23 girato 19 non c'è 37 non c'è 39 ahia c'era il 40 14 non c'è numeri piccoli non ci sono 25 niente 20 niente 27 niente 38 non c'è il 17 niente ultima fila 12 non ce il 23 31 c'è il 30 13 niente e 28 non c'è quindi 0 euro ancora per ada arcadio passiamo al 20 per perivette serie 44 numero 35 diamo i numeri vincenti e il bonus quale sarà 33 35 46 32 e il bonus 17 primo numero 12 non c'è il bonus 17 però 12 non c'è 44 non c'è 15 niente 26 niente 36 c'è il 35 28 non c'è 31 c'è il 32 34 33 35 abbiamo e 23 niente e 11 niente ultima fila 25 niente 13 13 niente 24 niente 38 niente 38 non c'è l'ultimo numero il 40 che non c'è quindi ancora 0 0 passiamo al miliardario di eugenia semeraro serie 89 numero 42 numeri vincenti 26 43 niente 21 in almeno 23 niente o kolze 27 e 31 primo numero 33 non c'è l'ultimo numero 33 non c'è 23 niente 24 non ce l'abbiamo 30 non c'è 35 no solo il 31 38 niente 40 niente 18 niente 21 non c'è 34 non c'è 28 c'è 26 27 23 non c'è 11 niente 25 c'è 26 27 36 non c'è l'ultimo il 17 che non c'è 0 euro anche per Eugenio l'ultimo per Barbara Cremona il 20 per serie 44 numero 36 andiamo un po' numeri vincenti per Barbara 45 13 34 11 e il bonus è 46 sarebbe un milagro di trovarlo 38 niente 42 niente 41 niente 23 23 non c'è 12 non c'è 32 niente 33 c'è 34 45 e così Barbara anche con solo 5 euro passa il turno 31 e 26 non ci sono 27 non c'è 24 non c'è 39 non c'è 43 niente e l'ultimo e l'ultimo che non c'è quindi invertiamo il codice vabbè mi ha fatto invertire subito 5 euro passa il turno Barbara Cremona ed esce Eugenio Semelaro che era la campionessa in carica quindi ora sicuramente sarà una nuova campionessa quindi Barbara Cremona andrà contro Anna Morrea nel terzo turno e vi chiedo subito di lasciare un bel mi piace condividere il video e niente ci vediamo al prossimo video ciao a tutti un bacio a tutte e grande Barbara